Ed eccoci qua a Bubu Tagget, questa è una puntata speciale perché è tornata a trovarci Manuela Prosperi E che saluta tutto quadri, dopo dopo tutti i quadrani, i quadresi, i quadresi, i quadresi, tutti i quadresi Poi c'è Giulio Berghella alla Reggioine e poi c'è da Pretoro che ci fa i disegnuzzi, tutte le cose, le caricature Antonio Masciantonio è un bravissimo caricaturista e adesso musica